Alan Reckins, celebratore statunitense, morto 82 anni per insufficienza cardiaca, conosciuto per il ruolo dell'avvocato Douglas Brackman Jr. nella serie LA Law Avvocati a Los Angeles e per quello di Larry Finkelstein, padre hippie nella sitcom d'Arma e Greg, si è spento nel sonno nelle prime ore di sabato 2 novembre. La notizia è stata data dalla moglie, l'attrice Joanna Frank, e da Hollywood Reporter. Nato a Cambridge, Massachusetts, nel 1942, Reckins si sposò nel 1978 con Joanna Frank, conosciuta durante un corso di recitazione. I due hanno lavorato anche insieme, Frank interpretò Sheila Brackman, la moglie litigiosa del personaggio Reckins, in LA Law e più tardi apparvero come coppia sposata nel film Always. La carriera di Reckins fu costellata di successi per il suo ruolo in LA Law, ottenne nel 1988 nomination agli Emmy e ai Golden Globe consolidando la sua fama come uno degli attori più noti della televisione americana. Ha recitato in ben 172 episodi della serie e in tutti i 192 episodi di Dharma e Greg, dove ha dato vita al memorabile personaggio di Larry Finkelstein, guadagnandosi il rispetto di critiche pubblico. Grazie a tutti.